Ciao a tutte e tutti. Una giornata con gli amici dronisti di Roma, alla scoperta di borghi al confine fra l'Abruzzo e il Lazio, e i loro castelli. Di prima mattina siamo a Carsoli e il suo castello, purtroppo ridotto a pochi ruderi, alla sommità del borgo medievale. Oricola è un piccolo borgo, molto ben curato, alla sommità di un monte che sovrasta la piana di Carsoli, e da dove difende la porta d'accesso con il Lazio. Il castello a pianta triangolare è in ottime condizioni. Arsoli. Il borgo è dominato dal castello massimo, dal nome dei signori del luogo. Il castello è abbellito da Giardini all'italiana verso il monte. massimo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Roviano. Roviano infine ha un bellissimo agglomerato medievale che corona il colle dove è costruito, e culmina con il castello, piccola rocca di origine ecclesiastica. alla prossima. Infine un bonus di qualche mese fa, una breve esplorazione della Rocca Maggiore di Assisi, che sovrasta il paese e la Basilica di San Francesco Grazie a tutti